Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo con questo testo ed è il testo di Padre Alessandro di Pabbottoni che racconta un po' tutte le storie, gli aneddoti, fatti legati a questi ragazzi che hanno vissuto con Padre Pio. Ecco che cosa racconta uno di questi fratini? Siamo tra il giugno del 1931 e ottobre del 1932, quindi non celebrava quindi più la messa in chiesa, non scendeva a confessare, ridimensionato in tutte le sue attività. Per quanto riguarda la messa mi ricordo che la celebrava in cappella, assistito da un fratello laico e in mancanza da qualche fratino. La celebrava verso le 8, tante volte noi giocavamo nell'orto, Padre Pio si affacciava dal balcone e chiamava il seminarista di turno, non sempre da parte nostra c'era la gioia di correre per assisterlo nella celebrazione, impiegava molto tempo, quasi due ore, qualche volta anche di più, a noi piaceva giocare, specialmente nei giorni di vacanza, stiamo parlando di ragazzi 12 anni. Padre Pio ci prometteva il regalo di qualche cioccolatino e il premio ci faceva correre. Io credo, scrive Pare Fortunato, che durante questo arco di tempo si sia maggiormente affinato nella sua vita spirituale, lo ricordo così, occhi luminosi, davano l'impressione di aver pianto, sembravano bagnati di lacrime, il volto sofferente nascondeva una pena, un dolore profondo, una terribile angoscia, pesava sul suo cuore. Non l'ho sentito mai lamentarsi, non ho mai potuto raccogliere una parola di biasimo, di condanna, di mormorazione e di difesa. A me sembra che Padre Pio trovasse il conforto, la forza nella celebrazione della Santa Messa, nella preghiera che diventava sempre più lunga, intensa, vitale. La Messa, scrive Pare Fortunato, sembrava che rimanesse inchiodato sull'altare, all'offertorio. Passava altre ore a pregare, oppure in coro, oppure a leggere nella biblioteca. Dormiva pochissimo, un sonno molto leggero. I nostri superiori, scrive Padre Fortunato, ci raccomandavano prudenza nel camminare, nel parlare, non fare chiasso o altro rumore, per non svegliare Padre Pio. Quando ho assistito, scrive Padre Fortunato, alla Messa nella cappella, ho potuto avere la fortuna di vedere le stimmate delle sue mani. Eravamo così vicini e, nonostante tutta la sua scaltrezza nell'andare a nascondere, erano visibili, specialmente quando apriva le braccia, per il Dominus Vobiscus o per gli Oremus. Molte volte al lavabo ho potuto osservare il sangue, il sangue vivo, vermiglio, scorrere come un rivoletto dalle sue ferite.